L'ultimo lavoro di Iago, Ajace e Cassandra si unisce alle altre opere nella Basilica di Santa Spreno ai Crociferi, ora Museo Iago. Dopo 40 anni di abbandono, la nuova vita della chiesa secentesca che nel 2020 il giovane scultore volle come studio perché aveva scelto una città, Napoli, un quartiere, la sanità e una comunità. Quando ti innamori che alternativa hai? Non è che hai una prospettiva, sei innamorato quindi stai lì, diciamo che brancoli nel buio, che segui e quindi questo è tutto il risultato dell'innamoramento. E' tornata nel luogo in cui è nata anche la pietà di Iago, scolpita in un blocco di marmo prima firmato dagli abitanti della sanità. E' qui che Iago dice di aver compreso il senso stesso del suo lavoro. Era la casa di una trentina di piccioni che avevano abitato magnificamente questo spazio, però avevamo immaginato una prospettiva. La mia fortuna è stata quella di intercettare dei visionari. Riapertura nata dalla collaborazione tra Fondo Edifici di Culto, Fondazione con il Sud, Fondazione di Comunità San Gennaro. Prima era tornata visibile un'altra chiesa, San Severo fuori le mura, con un'altra opera di Iago, Il figlio velato, ispirata al Cristo velato di San Martino. In questo processo la bellezza si riprende spazi, strada per strada, vicolo per vicolo. Sì, in effetti è questo che è il nostro scopo, di non limitarsi soltanto alla parte centrale del quartiere, ma riaprire i tantissimi luoghi periferici del quartiere sanità, in modo tale da espandere questa rigenerazione sociale, culturale, economica, ovunque. Percorso iniziato con la cooperativa La Paranza nel 2006, che riaprì le catacombe di San Gaudioso, poi quelle di San Gennaro. Cinque ragazzi oggi diventati 50, luoghi visitati oggi da una media di 200.000 persone l'anno. Quando tutto iniziò la frase più comune era, alla sanità non si può restare. Era una frase che ci ripetevano spesso, dove andate, siete pazzi, il turismo nel rione Sanità. Fortunatamente siamo riusciti a riscrivere questo destino, che sembrava già fatto, attraverso la bellezza e l'arte. Un modello esportato anche alla piscina Mirabilis di Bacoli e che ora dà vita a una nuova cooperativa. Siamo questo gruppo di ragazzi della sanità che vuole emergere sotto l'impronta della paranza. E loro sono i nostri fratelli che ci guidano in questa nuova avventura. Ci stanno formando, ci stanno appunto dando la start-up, quest'inizio, in questa avventura meravigliosa. Noi qui alla sanità diciamo che gli spazi diventano luoghi. Il prossimo obiettivo è anche un'altra zona, al momento un po' non sotto i riflettori. Sì, quella di Vede Cristallini, che forse è l'unica zona del quartiere rimasta ancora, in un certo senso, al buio. Ed è proprio la parte dove andremo ad operare, la parte che vogliamo riqualificare. Facciamo il punto sulle condizioni meteo, in studio Vincenzo Capozzi. Sì, rieccoci Andrea, diamo uno sguardo insieme all'evoluzione per la giornata di domani, in cui si apprende.